mercoledì è uscito nelle sale cinematografiche italiane gran turismo il film tratto dall'omonimo videogioco sony sappiamo che ultimamente playstation studios stanno realizzando questi film tratti dei loro videogiochi ma questo non è il solito film tratto da un videogioco playstation il film non è nulla di strepitoso non è un capolavoro è un film secondo me abbastanza nella media dignitoso più che sufficiente e che si lascia guardare piacevolmente pur non essendo appunto una pietra miliare del cinema che poi ragazzi io se era prima di andare a vedere gran turismo sono andato a vedere openheimer che è probabilmente uno dei più bei film che abbia mai visto quindi qualunque film visto subito dopo openheimer rischia di sfigurare ma a parte questo ripeto gran turismo non è un capolavoro non è un film dalle altissime pretese è chiaramente un film rivolto a un determinato target ovvero tutti quei giocatori amanti dei racing game e dei simulatori di guida e da questo punto di vista vorrei dire qualcosina su gran turismo oggi è chiaro stiamo trattando un tema un po diverso da quello che tratto di solito ma alla fine su questo canale facciamo giochi di guida e sim racing e anche se stiamo parlando per una volta di un film è un film che è strettamente legato a questo mondo e anzi poi questo discorso vorrei riprenderlo alla fine del video e spiegarvi perché secondo me questo film è importante a prescindere dalla qualità della realizzazione ma prima di parlare del film in senso stretto vorrei raccontarvi un attimo la storia la vera storia di jan mardemboro il protagonista del film protagonista della storia ricordo che il film è un film biografico quindi tratto da una storia vera e sorprendentemente l'ho trovato abbastanza fedele alla storia vera temevo fosse più romanzato invece a parte l'inversione di alcuni eventi che nella storia reale hanno avuto un ordine cronologico diverso e che nel film sono stati rimescolati per chiaramente migliorare la narrazione e darle un filo narrativo che rendesse la storia ancora più interessante a parte questo devo dire che il film è super fedele alla storia di mardemboro ora quando si parla di un film in un video è sempre bene premettere se ci sono meno spoiler nel video e qui siamo in una zona un po grigia perché io non farò spoiler magari se devo farne un paio me li lascio per la parte finale e vi avviserò chiaramente quando stanno per arrivare quindi per ora guardate il video tranquilli però adesso parleremo un po della storia di mardemboro e è chiaro ragazzi che essendo un film biografico non è spoiler perché la storia è nota a tutti o meglio è nota a chi conosce il personaggio per cui se sapete già chi è mardemboro probabilmente conoscete già anche la trama del film e dove andrà a parare anche perché lo stesso intreccio del film è parte integrante del trailer del materiale promozionale perché chiaramente si sa già che il film è la storia di un ragazzo che è arrivato a fare il pilota professionista partendo da un simulatore anzi partendo da gran turismo che è anche in proprio chiamarlo simulatore e questo ripeto non è spoiler lo si vede già nei trailer è proprio parte integrante del materiale promozionale per cui è difficile dire che non farò spoiler ma è anche difficile dire che ne farò nel senso sappiate che vi sto per raccontare la storia di mardemboro per cui se la conoscete già potete rimanere tranquillamente anche se ancora non avete visto il film mentre se volete vedere il film e non conoscete niente di questa storia allora magari in quel caso chiudete il video perché altrimenti potrei raccontandovi la storia spoilerarvi buona parte del film quindi siete avvisati se conoscete la storia o comunque la conoscete a grandi linee potete anche rimanere non ci saranno spoiler se siete totalmente all'oscuro della storia di mardemboro e volete vedere il film allora magari chiudete il video e tornate dopo che lo avrete visto detto questo chi è questo ragazzotto chi è questo mardemboro è un ragazzo inglese che nasce a darlington nel 1991 ma cresce a cardiff perché suo padre era un calciatore professionista del cardiff pur essendo il papà un calciatore professionista non è mai arrivato ad altissimi livelli ha sempre giocato nelle serie minori da quello che ho letto su wikipedia il forse il punto più alto della sua carriera è aver giocato dei preliminari di coppa uefa però insomma a parte questo era un giocatore un centrocampista che ha sempre militato nelle serie minori britanniche quindi non è che avesse sto grande stipendio questa grandissima ricchezza e piccolo yan così come tanti altri giovani aspiranti piloti non ha mai potuto perseguire il suo obiettivo di diventare pilota passando per tutta la gavetta che va fatta sui kart perché quella è una carriera costosissima e sappiamo che è riservata soltanto a chi ha veramente tanti soldi da spendere e non era questo il caso di yan quindi yan è un ragazzo normalissimo che va a scuola studia nel tempo libero si diverte con i videogiochi nello specifico con un videogioco gran turismo ovviamente si appassiona questo titolo da amici di famiglia che lo possedevano che possedevano il primo gran turismo per playstation 1 da lì recupera una playstation e gioca tutti gran turismo ricordo che il ragazzo è del 91 quindi ha vissuto tutta l'ascesa di gran turismo dal primo episodio fino poi ai giorni nostri e li ha giocati tutti era un grandissimo appassionato di gran turismo oltre a essere appassionato scopre ben presto di essere anche abbastanza capace al volante l'opportunità della vita gli si presenta nel 2011 quando partecipa alla gt academy un torneo e sports realizzato da playstation e sponsorizzato da nissan che aveva proprio l'obiettivo di selezionare i migliori giocatori di gran turismo e premiarli con la possibilità di entrare a far parte del team nissan quindi di diventare piloti professionisti nissan e mardamboro prima vince le selezioni nazionali qualificandosi dunque per la fase finale fase finale che era l'accademy vera e propria ovvero un programma che prendeva questi 20 migliori giocatori di gran turismo li sottoponeva ad un allenamento vero e proprio e ad un corso di guida sportiva in pista per farli diventare per i piloti una volta affrontato questo corso questi piloti si sono sfidati in un'ultima gara una vera gara silverstone nel silverstone national circuit alla guida di una nissan 370 z e jen mardamboro vinse questa gara diventando quindi il vincitore della gta academy e firmando dunque un contratto con nissan jen pensate non aveva mai messo piede in pista prima di vincere la gta academy e si ritrova ad essere un pilota professionista sotto contratto con nissan semplicemente grazie all'esperienza fatta a casa sua col simulatore su gran turismo se pensate che vincere un torneo di sports come la gta academy non fosse nulla di che vi basti pensare che quell'anno parteciparono oltre 90.000 persone alla gta academy chiaramente comprendendo anche le selezioni iniziali una volta entrato a far parte del team nissan mardamboro prese parte ad un programma di addestramento ancora più serrato ancora più intenso perché a questo punto il nostro jane è già un pilota professionista ma deve ottenere la licenza fia per poter prendere parte campionati più importanti quindi partecipa a diverse gare nazionali e alla fine riesce ad ottenere i risultati necessari per conseguire la licenza fia e diventare un pilota professionista ormai veramente a tutti gli effetti la sua grande occasione però arriva nel 2013 quando entra a far parte nel team gris motorsport motorizzato nissan per la 24 ore di le man dove il nostro jane va a formare un equipaggio che oltre a lui comprende anche michael chrome e luca sordonez che è un altro pilota che ha una parabola molto simile che nasce da gran turismo e arriva in pista questo terzetto formato di fatto da un pilota professionista e due sim drivers riesce a stupire tutti perché nella classe lmp2 quella di competenza si piazza al terzo posto terzo posto di classe è importante ribadirlo perché alle man corrono più categorie e l'equipaggio di jane appunto arrivò terzo nella propria classe ma se non sbaglio 26esimo overall però insomma considerate che è il 2013 e per un team formato da due sim drivers di fatto da due piloti che non hanno un background di di accademia e di gavetta come altri piloti ma vengono semplicemente dalla loro cameretta riuscire ad agguantare un terzo posto di categoria alle man al loro esordio et o meglio all'esordio di jane non so se fosse l'esordio anche per ordonez ma credo di sì è tanta tanta roba questo probabilmente rappresenta anche uno dei punti più alti della carriera di jane mardembolo anche se poi le soddisfazioni negli anni successivi non mancano perché nel 2014 in seguito alle sue buone prestazioni partecipa alla gp3 series che è praticamente l'attuale formula 3 ed entra addirittura a far parte del red bull junior team quindi della dell'academy della red bull per capirci in quell'anno sempre in gp3 mardembolo ottiene anche una vittoria ad okenheim e poi prende parte alla sua seconda 24 ore di le man ma il pilota insieme al suo equipaggio ottiene soltanto il nono posto assoluto e il quinto posto di classe nell'anno seguente 2015 mardembolo continua a correre in gp3 ma prende parte anche ad alcune gare gt endurance e proprio durante una di queste al nurburgring sul circuito sul pericolosissimo circuito del north life mardembolo ha un bruttissimo incidente il pilota britannico infatti perde il controllo della sua nissan alla flugplatz dove la sua auto si impenna e prende letteralmente il volo scavalca le barriere e finisce sugli spettatori jane esce incredibilmente quasi illeso ma purtroppo in quell'incidente diversi spettatori rimangono feriti e uno perde la vita un incidente del genere che toglie la vita uno spettatore rischia seriamente di compromettere la carriera di un pilota anche semplicemente a livello psicologico invece jane si riprende subito nei mesi successivi partecipa addirittura al round di monza della gp2 quella che è oggi l'attuale formula 2 e sempre nello stesso anno prende parte la sua terza 24 ore di le man ma stavolta concorre nella categoria regina purtroppo però il prototipo nissan è poco competitivo e quindi l'equipaggio di jane deve ritirarsi a metà corsa questa è anche la sua ultima apparizione alle man e quindi capite che probabilmente a conti fatti il punto più alto della sua carriera è proprio la sua prima esperienza alle man dove riesce a piazzarsi comunque sul podio di categoria successo che poi non è più riuscito a ripetere nelle sue due apparizioni successive nel 2016 mardemboro si sposta in giappone dove c'è sempre un panorama piuttosto florido per tutto quello che riguarda le categorie propedeutiche e qui prende parte a diversi campionati gt e alla formula 3 giapponese dove ottiene diversi podi diverse vittorie e diventa addirittura vice campione della serie nel 2018 chiude la sua parentesi giapponese e dal 2018 al 2022 jane mardemboro è tester pensate un po della scuderia nissan in formula e e prende parte anche a diversi rookie test nel corso delle stagioni chiaramente è l'anno di uscita del film a lui dedicato quindi in questo momento jane da quello che so non sta correndo nessun campionato particolare però grazie anche alla notorietà che questo film inevitabilmente gli porterà punta a tornare alle man il prima possibile questa è a grandi linee la parabola di jane mardemboro ora parliamo un attimo del film e tranquilli non è ancora la parte spoiler quella lascio veramente per gli ultimissimi minuti e vi avviserò quindi potete ancora rimanere perché sostengo che gran turismo anche se non è un grandissimo film è un film importante perché il fatto che il sim racing ad oggi sia una via d'accesso al motorsport per chi è del settore è una cosa abbastanza scontata e assimilata voglio dire era così già nel 2011 figuriamoci oggi nel 2023 ormai il sim racing è a tutti gli effetti una porta d'accesso al mondo delle corse reali però questo magari non tutti lo sanno e se consideriamo che fino a una quindicina di anni fa l'unico modo l'unica strada per diventare piloti professionisti era passare dalla gavetta nei kart che era costosissima e quindi la maggior parte delle persone non se la potevano permettere chissà quanti piloti quanti campioni non abbiamo mai visto perché sono stati costretti a fare altro nella vita non potendosi permettere la gavetta necessaria per arrivare a fare il pilota ebbene con l'avvento dei simulatori di guida nei primi anni 2000 ma soprattutto dopo il 2010 quando poi questi sono diventati veramente un canale di accesso pian piano sempre più utilizzato verso il vero motorsport possiamo dire che tutto il mondo della simulazione di guida ha democratizzato l'accesso a questo sport che fino a 15 anni fa era solo per ricchissimi oggi non è più così o meglio è ancora così perché lo vediamo anche in formula 1 ci sono elementi veramente improponibili solo perché pagano però se escludiamo un attimo la formula 1 che è il punto d'arrivo massimo il mondo del motorsport oggi è aperto anzi è apertissimo a chi dimostra di essere valido al simulatore e come ha dichiarato lo stesso jan mardembro in qualche intervista la sua barriera d'accesso sono state 500 stelline per comprare la playstation nel videogioco non ha dovuto spendere milioni per finanziarsi una carriera sui kart come hanno fatto altri suoi colleghi poi è chiaro che l'esperienza che ti danno i kart che ti danno tanti anni sui kart non te la dà un simulatore e quindi devi compensare con tantissimo talento però questa oggi è una strada possibile e l'importanza di gran turismo è proprio questa gran turismo è un film che è vero che di fatto è diretto allo stesso target che gioca ai simulatori quindi si rivolge a quelle stesse persone che già sanno che tramite il videogioco si può arrivare in pista però magari essendo un film che esce nei cinema che porta al cinema tanta altra gente che non è così dentro questo mondo gran turismo è un film importante perché prova a raccontare a tutti che questo canale di accesso al motorsport esiste e parla a tanti ragazzini che magari in famiglia giustamente si vedono negato questo sogno perché non ci sono le possibilità economiche per correre nei kart però oggi quei ragazzini sanno che se si applicano basta comprare un volante una postazione un videogioco e potenzialmente hanno già tutto quello che serve per realizzare il loro sogno ovviamente con la dovuta dedizione il dovuto talento ed è per questo che dico gran turismo è un film importante andate a vederlo assolutamente perché ripeto un film comunque piacevole guardabile i primi 30 minuti mi hanno fatto temere un po il peggio perché l'inizio è molto molto banale e molto poco approfondito ma da quando mardemboro vince poi la gt academy dopo il film decolla e c'è un cambio di ritmo importante secondo me il film diventa molto più godibile detto questo prima di chiudere voglio prendermi due minutini ulteriori per parlare di alcuni aspetti del film e qui magari se non avete visto il film chiudete il video perché non farò spoiler tanto sulla trama che appunto di fatto ve l'ho appena raccontata raccontandovi la storia di jan ma vado a parlare di alcuni aspetti del film che a questo punto se non avete visto il film è meglio che non ascoltiate magari anche voi tornate qui dopo averlo visto quindi chiudete il video se non avete visto il film però mi raccomando poi tornate quando l'avete visto il film naturalmente si prende qualche licenza vi ho detto all'inizio che in realtà mi aspettavo un film meno fedele l'ho trovato molto stranamente molto molto fedele alla storia vera nella narrazione non troverete eventi inventati o grandi licenze da questo punto di vista le licenze che si prende la sceneggiatura sono piuttosto quelle di spostare l'ordine cronologico di alcuni eventi uno su tutti l'incidente incidente che costa la vita uno spettatore che nel film viene utilizzato come spediente narrativo la classica parabola dell'eroe che al momento di crisi e poi dopo si riprende e raggiunge la vittoria finale in questo caso abbiamo visto nella storia di martembro l'incidente avviene dopo il suo podio alle man due anni dopo o tre anni due anni dopo due anni dopo nel film questi eventi vengono invertiti cioè prima l'incidente la crisi del pilota il pilota esce da questa crisi si rialza e va a vincere va a vincere va a conquistare il podio alle man anche la storia del podio di le man viene raccontata in maniera molto paracula perché si parla di terzo posto non viene specificato chiaramente nel contesto del film che è un terzo posto di categoria ma alla fine è poco importante chi corre alle man corre per la propria categoria almeno che non corri nella categoria regina e allora in quel caso corri per la vittoria finale quindi ci può anche stare il fatto che non venga specificato che un podio di categoria però ecco l'elemento importante è l'inversione di questi due eventi cronologici che ho letto ha causato anche diverse polemiche perché alcuni hanno trovato di poco gusto strumentalizzare un incidente che ha costato anche la vita a una persona e spostarlo come spediente narrativo le trovo critiche assolutamente sterili perché la sceneggiatura del film non inventa nulla e non strumentalizza nulla semplicemente inverte due eventi realmente avvenuti per un'ovvia logica di narrazione non ci trovo nulla che sia di cattivo gusto onestamente è un fatto realmente accaduto in una biografia è giusto che venga raccontato e non vedo che importanza possa avere il fatto che venga semplicemente invertito a livello cronologico con il podio alle man altre licenze importanti che non mi sono piaciute per niente sono quelle che riguardano la traiettoria perché sia inizio film quando jan è al simulatore sia poi in gara nel finale jan ottiene le sue vittorie utilizzando traiettorie che sono al limite della fantascienza perché jan dichiara di poter fare scientemente delle traiettorie esterne che gli altri piloti non fanno perché aiuta a superarli e a vincere ma questo è assolutamente surreale perché sappiamo che all'esterno passi solo se sei tanto più veloce del pilota che all'interno di per sé non è una traiettoria favorevole mentre il messaggio che passa nel film è che jan è più furbo perché fa delle traiettorie che altri non fanno ma in realtà non è così perché gli altri ovviamente fanno una traiettoria giusta semplicemente jan passa perché è più veloce non perché fa quelle traiettorie questo un messaggio molto forviante perché questa è una delle basi del motosport però vabbè l'altra cosa che sicuramente farà bruciare il sederino a molti è il fatto che in tutta la narrazione gran turismo viene trattato come simulatore di guida ora questo è un dibattito aperto da un sacco di tempo perché i puristi della simulazione dicono che gran turismo non è un simulatore e in parte è vero ragazzi gran turismo un simcade una via di mezzo tra una simulazione e un gioco arcade ma chiaramente il film è fatto da sony ragazzi il film è il film di gran turismo cosa volete che vi raccontino gran turismo magari agli albori su playstation 1 su playstation 2 aveva anche ragione di definirsi the real driving simulator perché all'epoca non è che ci fossero tutti sti concorrenti a livello di simulazione c'era qualcosa su pc però all'epoca si poteva considerare un simulatore gran turismo ma negli anni 2010 con l'avvento di simulatori veri come assetto corsa poi automobilista i racing insomma tutta questa pletora di simulatori veri e propri oggi definire un simulatore gran turismo fa storcere il naso però ragazzi anche qui tenete presente che il film è prodotto da sony quindi è normale che l'oste vi dica che il vino è buono in questo caso e comunque la storia di mardemboro e di altri piloti dimostra che da gran turismo simulatore o non simulatore si possa imparare a guidare per poi correre in pista quindi gran turismo da questo punto di vista è comunque un prodotto valido anche se non è un simulatore a 360 gradi perché poi noi spesso ci dimentichiamo che tutti quegli aspetti che fanno anche la differenza tra gran turismo e un simulatore vero sono aspetti che nella realtà vengono curati dagli ingegneri non dai piloti parlo dell'assetto parlo delle regolazioni di fino il pilota pensa a guidare nella realtà il pilota non è un ingegnere poi sì sicuramente deve avere delle basi per comprendere questi aspetti ma ci sono gli ingegneri che si occupano di questo mentre uno che gioca ai simulatori deve anche essere un po ingegnere di se stesso perché chiaramente non ha un team intorno ed è questo il motivo per cui anche gran turismo pur non essendo un titolo profondamente simulativo riesce a fornire le basi per imparare a guidare perché il pilota deve solo guidare nella realtà non deve pensare a tutto quello a cui c'è da pensare in un simulatore però questo aspetto era giusto toccarlo perché se poi andate al cinema e vi indispettite perché dopo cinque minuti vanno già detto tre volte che gran turismo è un simulatore insomma dovete anche essere coscienti del film che state guardando un'altra licenza che il film si prende è quella di creare chiaramente ad hoc dei villain se vogliamo all'interno della narrazione che non sono realmente esistiti almeno non credo dalle ricerche che ho fatto ma è chiaro che quello è un altro spediente narrativo e un'altra mezza licenza è quella che il team l'equipaggio che vince non che vince pardon che ottiene il podio aleman nel 2013 è un equipaggio formato da soli sim drivers anche quella è una mezza verità perché non è un equipaggio formato da soli sim drivers ma i sim drivers sono comunque due su tre il che rende il loro podio veramente un'impresa in definitiva sono rimasto veramente sorpreso dal modo fedele in cui è raccontata la storia di yanmar denborough eppure non essendo gran turismo il miglior film sul motosport anzi non è assolutamente il miglior film sul motosport perché ha uno sviluppo a tratti banale specialmente nella prima parte e poi nella seconda migliora molto è un film importante che inutile dirvi che lo consiglio a tutti gli amanti del sim racing dei giochi di guida insomma se siete iscritti a questo canale perché vi piace questo ambito quindi a tutti voi consiglio caldamente di guardare questo film ma è un film che consigliare comunque a tutti gli appassionati di videogiochi e di corsa in generale detto questo ragazzi io sono curiosissimo di sapere cosa ne pensate voi anche perché probabilmente molti di voi ancora non l'hanno visto perché il film è appena uscito però mi farebbe piacere man mano che lo andate a guardare al cinema se poi tornaste qua sotto a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate io vi ringrazio per aver visto il video un bel pollicione in su se l'avete apprezzato se siete capitati qui perché cercavate magari pareri su gran turismo e non conoscevate il canale date un'occhiata perché qui facciamo sim racing e giochi di guida in generale quindi se vi piace l'ambito potreste trovare tanto pane per i vostri denti quindi magari valutate l'idea di iscrivervi per oggi è tutto grazie della visione ci vediamo con i prossimi contenuti un saluto ciao